Buongiorno, in che cosa si distingue il panettone siciliano? Il panettone siciliano si distingue o non si distingue, nel senso che la cultura e le paste agli ovviamente sono lombardi, in questo caso siamo a Milano, quindi un omaggio col panettone tradizionale, rigorosamente fatto però con gli aranci, quindi i canditi della nostra terra, la Sicilia, o nel caso della uva sultanina, che è il nostro militare arranco, possono essere di Pantelleria, del Marocco, della Tunisia, che sono le migliori produzioni appunto di uva sultanina, ci giochiamo, maceriamo con il vino, Malvasia delle Libari per esempio, o quello del moscato nostro, e quindi emana questo profumo di agrumi, che è tipo un vino dolce. La differenza non c'è, nel senso che la cultura quindi è sempre delle paste agli, ma con i nostri profumi, profumi del nostro vino. Perfetto, io faccio i miei complimenti e le auguro di continuare a rivederci. Grazie.